Music, news, sport, every day for you on the web, lecochannel.it, the blue light, blue radio. Palla che sfila, Draghetti anticipato da West Astuti, buona occasione per la calcio, ecco, al terzo minuto di gioco con Draghetti, comunque cerca di costruire una stagione di gloria. Doviamo Cavalli, batterà col sinistro a rientrare, va adesso, palla Spermerli, Sala c'ha il gol ma è fuori gioco, ravvisato con assoluto anticipo dall'assistente barale di Torino. Penso senza troppe possibilità di replica, Gabriele Cavalli che potrà calciare in maniera avvolgente, così è, palla che colpisce la traversa e si perde oltre la linea di fondo campo. Questa occasione decisamente più grossa per la calcio, ecco, e porta la firma da fermo di Gabriele Cavalli, la stessa attraversa, non ci sarebbe stata possibilità di replica, Cavalli calcia verso il centro dove si sgancia, scaglione parata di West Astuti. Apre bene sulla sinistra per Muriano che cercherà Cristofoli in mezzo all'area, no, cerca a basso Draghetti al limite dell'area, Vignali scivola, tunnel di Draghetti potrebbe calciare, palla verso il centro che riesce a intercettare bene Minelli. Con la posizione che era stata abbattuta da Cavalli sul piede di Marisala che aveva trovato ancora una volta la via della rete come è avvenuto nella gara d'annata, ma la bandierina si era alzata anche in quel caso. Visconti intanto siamo sulla destra, Visconti ritorna su Moleri, vedremo se cercherà il cross, cerca lo sfondamento sulla destra, Cristofoli sfila il pallone sulla sinistra, Muriano va verso la porta con il destro, palla che sfila a un metro e mezzo dalla porta di West Astuti. Palla che viene stoppata da Bittiene, c'è Visconti su di lui, Bittiene, vedremo se andrà verso il centro, no, sfonda sulla sinistra, cross, basso, arriva sulla destra, Cazzago, testa di Bignotti, calcio d'angolo, l'unico uomo nella metà campo difensiva blu celeste, Mureno la risupera la liga di metà campo, ottimo scambio con Bignotti, si apre un 2 contro 0 sulla sinistra, Mureno, Draghetti, Draghetti, palla sul fondo, il mancino di Draghetti, non trova la porta di West Astuti, che delimita le due metà del campo di gioco, palla verso il centro, giocata da Minessi, De Angelis, diagonale di un filo alato della porta difesa da Giacomo Navacchera, anche scivolato, prima vera occasione per il Ciliverg di Mazzano, con la diagonale di Ciro De Angelis, quando siamo giunti al sedicesimo minuto della partita, campo che abbiamo detto nel corso di primo tempo, è sicuramente in buone condizioni, intanto Draghetti entra in area, siamo sulla sinistra, Draghetti per Cristofoli, palla imprecisa di Draghetti, che però torna in possesso e trova il vantaggio per la Calcio Lecco 1912, secondo gol stagionale per Gianluca Draghetti, che è riuscito a trovare la via del gol e quindi il vantaggio per la Calcio Lecco 1912 del Ciliverg, palla lunga di Andriani, scaglione salta, non in maniera perfetta la sua deviazione, Ragnoli, Nava, non adesivo, calcio d'angolo per il Ciliverg, quasi tutti seduti gli elementi della panchina bucinesta, eccezione fatta per Matteo Mortara, Patrick Meierghi e Fabio Roselli, battuta la punizione dal Ciliverg, attenzione palla lì, miracolo di Nava su Minelli, da zero metri, Jack che si carica ed esulta come avesse segnato un gol, l'Ecco che prova a ripartire del bar, spinto lontano dall'area da Luoni, crossa al centro di Minelli, Nava, uscita che rimane a metà, perde la palla, De Angelici scivolata, colpisce Nava che rimane a terra di Comotti, non la tiene però Bignotti la seconda palla, ancora Comotti Moleri, li ruba un pallone che può essere decisivo, Marco Moleri in prova a ripartire, Cristofoli rallenta l'azione, prova a imbastire un tiro, Moleri, Moleri si lascia andare sulla destra al tiro alto, sopra l'attraverso della porta difesa da West Astuti, intanto è entrato anche Matteo Ghidinelli, è uscito Marco Moleri, palla dentro l'area, Cristofoli, parata di West Astuti, alle spalle di West Astuti, Zucchini finisce qua, la calcio d'Ecco guadagna, tre punti sul campo del Ciliverg e Mazzano, grazie alla rete, è arrivata al diciassettesimo della ripresa e che porta la firma di Gianluca Draghetti. Musica, news, sport. Every day for you on the web. Lecco Channel.it, the blue light, blue radio.